Voi sapete che nella Nato oggi un attacco cyber può essere considerato la stregua, può essere invocato l'articolo 5 del trattato, cioè chiamare gli altri a difendersi, ma giustamente noi siamo di fronte a problemi nuovi perché per difendersi bisogna sapere chi ti attacca, da dove ti attacca e con un attacco cyber non è sempre detto che anche un attacco che può partire da una volontà statuale negativa parta dallo Stato, potrebbe partire da un altro territorio, da agenti che non sono statuali e quale entità può consentire, perché tutti noi abbiamo attacchi cyber, di dire chiami in aiuto gli altri paesi, quindi abbiamo di fronte, chiudo, un tema di messa a punto della giurisdizione internazionale che riguarda sia lo spazio sia la cyber, senza le quali poi noi che ci vogliamo muovere nel campo della legittimità, a differenza degli hacker o di chi vuole proditoriamente andare contro la comunità internazionale, dobbiamo creare anche delle regole internazionali su questo.